Stavo tranquillamente giocando a Minecraft quando a un certo punto mi conviene installare Arch Volevo semplicemente usare il mio computer quando senza previso vuole che uso Bing Mi conviene installare Arch Ciao, sono Claudio, lo sapevi che uso Arch? Beh, ora lo sai, io credo che ogni donna, uomo e bambino abbia il diritto di avere il pieno contatto del proprio computer Ed è per questo che dovessi installare Arch anche tu Che cazzo è dentro di me? Arch Linux L'avete chiesto? Ed eccolo qua Ma il video di oggi non vuole essere una recensione come faccio di solito con gli altri distro Ma più una chiacchierata e una spiegazione su come funziona Arch e sul perché I use Arch By the way Innanzitutto Arch Linux è una distribuzione a sé Quindi non è basata su nessun altro distro ed è una distribuzione rolling release Cioè che quindi a differenza di ad esempio Ubuntu dove ogni 6 mesi circa abbiamo una nuova versione Come può essere la 22.04 Su Arch per avere l'ultima versione del sistema basta aggiornare i pacchetti L'unica cosa che assomiglia un po' a una versione è la ISO di installazione che viene aggiornata ogni mese Ma che in realtà cambia semplicemente ciò che include Quindi anche se ad esempio installate Arch con una ISO di marzo avrete comunque un sistema totalmente aggiornato In più Arch è anche una distro bleeding edge Il che vuol dire che i pacchetti aggiornati vi arriveranno molto prima rispetto ad altri distro come sempre ad esempio Ubuntu Per dirvi Ubuntu totalmente aggiornato utilizza il kernel Linux 5.15 mentre Arch è al kernel 5.18 Però perché Arch è famoso? La motivazione è molto semplice Perché quando avviate la ISO di installazione vi trovate di fronte a questo E per quanto sembra una cosa stupida Where is my installer? In realtà questo è il più grande punto a favore di Arch Avete un terminale? Potete configurare il sistema come volete Potete scegliere il desktop environment che volete Scegliere il bootloader che volete Installare i driver come volete voi E fare tutto a vostro piacimento Preferite usare un tiling Windows Manager come i3? Potete farlo tranquillamente Volete magari provare Wayland? Nessun problema Volete che il vostro bootloader si installi nel posto giusto E non smicca il bootloader degli altri sistemi operativi? Potete farlo finalmente Andiamo quindi a vedere velocemente come si installa Però prima un piccolo appunto Questo non è un tutorial Quando usate Arch Usate sempre la wiki ufficiale Io oggi voglio solo più o meno spiegarvi Come funziona in genere l'installazione Non spiegarvi passo passo i singoli passaggi Anche perché io faccio le cose in maniera diversa dagli altri Magari certe volte in maniera un po' sparsa e confusa Perché mi scordo e poi mi ricordo dopo Ed è questa appunto la cosa importante di Arch Come dicevamo prima Che ognuno fa le cose a modo suo Innanzitutto dobbiamo buttare il nostro supporto di installazione E ci troveremo su un terminale a schermo intero La prima cosa che dobbiamo fare è cambiare il layout di Tastiera Se ne stiamo usando uno diverso da quello americano Dopodiché controlliamo se abbiamo buttato in Wifi oppure in Legacy Per poi ricordarcelo quando andiamo a installare il bootloader E poi se stiamo utilizzando l'Ethernet Controlliamo se abbiamo internet pingando Archlinux.org Altrimenti possiamo usare l'utility IVCTL per collegarci al Wi-Fi Successivamente configuriamo la sincronizzazione dell'orario E poi creiamo le partizioni necessarie per il sistema con FDisk Io solitamente creavo una EFIR 512 MB Una swap da 8 GB e una slash con tutto il resto Una volta create le partizioni le andiamo a formattare nel file sistema necessario Le andiamo a montare sotto slash mnt Usiamo Packstrap per installare il sistema di base sotto slash mnt Creiamo il file fstab per definire i dischi che andano montati all'avvio Infine facciamo il chroot dentro slash mnt Per poter lavorare nel sistema appena installato Qui l'unico text editor che avremo sarà V E quindi se non vi garba dovrete installare qualcos'altro come nano o micro E dopodichè quello che dovremmo fare sarà modificare un po' di file di configurazione per la lingua Installare pacchetti utili come DHCP, CD per internet oppure sudo Dare una password all'utente root e creare un nostro utente da usare Poi installiamo un bootloader che nel mio caso sarà grab Configuriamo sudo, usciamo dal chroot e riavviamo per vedere se abbiamo fatto tutto giusto Se riusciamo a buttare nel terminale del sistema appena installato possiamo o usarlo così come dei maniaci O essere delle persone normali e installare un ambiente grafico come Plasma Abilitiamo i vari servizi necessari con System CTL Riavviamo, ora abbiamo un sistema usabile di cui non dobbiamo fare altro che installare eventuali app che ci servono e siamo a posto Possiamo farci quello che vogliamo Una piccola cosa però, se decidete di installare Archie in una macchia virtuale dentro VMware Sapete che però i driver sono un po' pagati e l'unico modo che ho trovato per farli funzionare è seguire questa guida su Reddit Qualcuno potrebbe però in realtà sapere che nelle recenti ISO di Archie è presente un installer automatico che si richiama semplicemente scrivendo Archie Install Ed effettivamente è vero, ma per chi vuole installare Archie per la prima volta non lo consiglio Semplicemente per il fatto che Archie è così modulare che se si dovesse poi rompere qualcosa dovete circa sapere cos'è e come funziona Chiaramente se volete una distra dove non dovete scrivere così tanto ci sono sempre Ubuntu, Fedora, Popwest, MaxMeet e tutta quella roba là Il che però non vuol dire assolutamente che Archie Install non va usato Una volta che avete preso familiarità con Arch, avere un tool che vi risparmia tempo nel fare le cose è comunque una cosa incredibile Dopo aver installato Arch avete sicuramente già fatto un po' di familiarità con la wiki di Arch Che a parere mio, e non solo, è uno dei migliori posti dell'internet In questa wiki trovate di tutto riguardante Arch ma in realtà Linux in generale Guido su come usare i vari software, compatibilità hardware, tutto ciò di cui avete bisogno per usare Archie E quindi vi do un consiglio, se dovete fare qualcosa su Arch, consultate sempre la wiki e non quelle guide sgorbi che trovate su internet Tranne se la wiki per qualche motivo strano non ha la risposta alla vostra domanda Un'altra cosa con la quale sicuramente avete fatto un po' di familiarità nell'installer è il Package Manager Pacman, non quello giallo È un Package Manager molto buona per il mio, non distruttivo come apt e non lentissimo come dnf Il suo funzionamento è molto semplice, per installare un pacchetto si fa sudo pacman-s grande nome pacchetto Dopodiché si dà la conferma, per cercare un pacchetto si fa pacman-s grande-s piccolo parola chiave E se vogliamo aggiornare il sistema facciamo sudo pacman-sy che assomiglia al sudo apt update di Ubuntu Oppure direttamente sudo pacman-syu che assomiglia a fare sia apt update che apt upgrade su Ubuntu Ah, e se vogliamo cancellare un pacchetto basta fare sudo pacman-r-nome pacchetto Ma su Arch non esistono solo le repo ufficiali per installare programmi Ovviamente, oltre a snap e flatpack e quella roba là, abbiamo una cosa che è esclusiva di Arch, l'AUR Ovvero la Arch User Repository Un posto dove gli utenti possono caricare non tanto dei programmi completi Ma più che altro degli script che si possono usare per ad esempio compilare un programma risorgente in maniera automatica O magari addirittura per convertire un programma che, che ne so, c'è solo in .deb in uno compatibile con Arch E per usare l'AUR solitamente si usano dei tool chiamati AUR Helper, come ad esempio IAI o Paru Il mio preferito è IAI perché ha una sintassi piuttosto simile a quella di pacman con la differenza che non vuole sudo Infatti non lo potete usare ad estate Una cosa importante da capire con l'AUR però è che la sua natura di Arch User Repository Vuol dire che bisogna stare attenti a cose scarichiamo da lì Andando quindi sempre a controllare il file package build per assicurarci che non distruggono il nostro computer Ma ora andiamo sui problemi di Arch Il problema più grande è sempre quello Per fare certe cose, certe volte si scelga di più Ad esempio se volete usare VirtualBox o VMware, sclerete di più rispetto ad altri distors Già i VMware su Linux ultimamente è un abominio totale Poi su Arch ovviamente non ne dobbiamo parlare Poi una piccola cosa che ho notato ultimamente, proprio mentre lavoravo questo video, è che in questi giorni l'installer di Arch è rotto Nel senso che le firme sono tutte buggate e continuano a rompersi tutto, ma non solo a me, ma anche ad altri Un modo per risolvere è fare pacman-sapeson Arch Linux Keeling per aggiornare le chiavi prima di fare packstrap Però comunque è una cosa piuttosto scomoda che non sempre funziona, a volte si rompe pure il aggiornamento delle chiavi Però in conclusione Arch Linux rimane la mia distra preferita Una volta che la impari, rende fede allo spirito di Linux Avere un sistema dove fai ciò che vuoi Ma posso perfettamente capire che per tanti, anzi per molti, non sia l'ideale È più difficile trovare una soluzione a un problema perché dipende da come tu hai configurato il tuo sistema Mentre se una distro più tradizionale puoi semplicemente cercare il tuo problema E se qualcun altro l'ha avuto, lo stesso comando doveva funzionare E anche solo il numero di aggiornamenti molto superiore per qualcuno potrebbe essere un problema Se magari vuole avere un sistema più stabile e non qualcosa di bleeding edge Però la verità è una, Arch è ben lontana dall'essere la distro Linux più difficile di tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti